Ma che se vi date ad altri vizi rispetto ai soldi? No, i vizi sono tutti uguali e tutti buoni. La donna è come i bambini. E' buona. Conferendo che non finisca subito. La vendemmia va a costa subito. E' sere. Non è per me ne ho fortuna. Non sono tutti i bambini. 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 Anziché dedicarvi alla virtù e varlo in vino. E quindi con veritate. Dedicatevi agli piacere della vita. Come faccio il vostro caro zio. Caro zio, se non fosse per me e via sorella viatrice, mi sogneresti i provatori che vengono a corte a decantare le nostre virtù. Signora, io non so cantare, però per le virtù posso provare tranquillamente. Eh sì, immagino. Ma chi è questo di tutto che vi accompagna? E' un uomo che conosce il mondo. E comunque i trovatori vengono per altre cose. E poi che cosa cantano? Le vostre avventure? Quelle le lasciamo stare, come dire, al segreto. Ma se lo so tutti che andate con tutte. Io caro Sisco, vi rammento che il vino che bevete ve lo pago io. E' un grandino, eh. E quindi la lingua, tenete la freno. Io ce la dico. Mia nipote è donna di virtù. Dovrete imparare che a stare a corte bisogna prendere delle buone abitudini. No, non vai a spingere, eh. Almeno una volta al mese il bagno andrebbe fatto, come facciamo noi nobili. A me, quando mi han battezzato mi han lavato sicuro. Eh, ma mi sa che l'allora... L'acqua non l'avete più vista. L'acqua fa ruggine. È risaputo. L'acqua fa ruggine. L'acqua fa ruggine. Quando bere, no. Ovunque, guardi. Mi scusi, ma... Guardi, le gogne sono finite. Non abbiamo più gogne, eh. Abbiamo le spieghi. Marchese, senta, ubriachi, ladri, stupatori e tutti quando in giro di ronda... Mettere, mi ero occupato che una dama ha voluto provare a fare un giro sulla gogna. Non si offenda, però... Vuole provare, gliela spazio. Ma rispondendo, va... Zio, zio, per favore. Zio, fermate il vostro... Zio, ritornate ai raghi. Consegnate la spada, forza. Tecnici. Non è parente mio, è... Guardate via la feccia, per piacere. Sono anche questo! Allora, mettiamoli a questo... Oh, è stato un colpo di vento! Venga, mi attento perché c'è connessione che picchia. Guarda, ci metta il berretto che sennò le viene con un colpo di struttura. Allora, la mia mamma ce la dedica a me? Prova lì sotto! Arriva l'ambasciatore, vi voglio sano. Buttategli la testa nell'acqua fredda! Non so, bisogna diluire il vino, diamo! Eh, a proposito, dammi le monete! Dammi le monete! Perdonate, perché si ricorda quella commessa che abbiamo fatto? La signorina lì che è tante gente... Aspetta che tu le raggi non lo fai! Questa è per l'altro, è buono eh! Troppo effetto! Staccatelo dalle bottiglie! Questa riflessione! È un prigioniero libero! Fatemi da parte! Fatemi da parte! Sì, sì, sì! Sì, sì! Ho subito proprio uno del virale eh! Non posso amare! Ciao!